La mostra dal titolo Perduti nel paesaggio, aperta fino al 31 agosto al Marte di Rovereto in provincia di Trento, affronta il tema attraverso le opere di oltre 60 artisti provenienti da tutto il mondo, molte mai presentate in Italia. Oltre 170 fotografie, 84 dipinti, 10 video, 8 installazioni di cui 4 video, interventi specifici al contesto, un progetto per il web e uno come libro d'artista. Nelle sale del Marte uno sguardo appassionato e sofferto sul mondo che scopre necessariamente anche i suoi angoli più drammatici e contraddittori. La mostra intreccia tre differenti livelli di lettura, in primo luogo esaminare la propensione umana ad appropriarsi dell'ambiente e a identificarsi e dialogare con esso, che si plasma in qualsiasi rappresentazione del paesaggio. Poi affrontare il paesaggio non come genere artistico, ma come mezzo per la costruzione di un senso. Infine, offrire al visitatore un'esperienza al contempo estetica e di riflessione mediante le opere esposte e il loro rapporto e la loro articolazione nello spazio espositivo. Vissuto e costruito, contemplato e utilizzato, il paesaggio è dunque inseparabile dall'uomo. Infatti nel percepirlo, conoscerlo, descriverlo, l'uomo è al tempo stesso oggetto iscritto nella realtà e soggetto esterno e narrante.